Ieri per la prima volta ho incontrato il capitano, l'unico e vero grande capitano della storia nera azzurra, Avie Zanetti. Mi sono alzato di buon'ora ed insieme all'Ultras Generale e ad altri amici ci siamo subito diretti al Lago Negro, luogo di raccolta in cui Zanetti arriverà per dinaurazione di una scuola a calcio. Durante il tragitto Generale ci svela di averlo già conosciuto. Lo campo si. Hai avuto modo di conoscere? Yes. In prossimità dell'arrivo iniziano le prime paure perché è allarme neve. Allora siamo arrivati al Lago Negro, siamo in anzio perché tra poco vedremo il capitano. Sei contento Franco? Insomma. Come insomma? Vedere il capitano non è che capita tutti i giorni. Eh infatti è vero perché siamo molto distanti. Sì sì. Cosa dirai a Zanetti se potrai avere modo di parlarci? Cavaradici a Zanetti? Sì, sentiamo. Lo prima di tutto è da cancellare l'allenatore. Ah, non capirai, contro spalletti. Ci vorrebbe un allenatore. Ma lo sai che... Ci vorrebbe un allenatore che ha giocato nell'Inter. Dopo le classiche chiacchiere da bar entriamo nel palazzetto e attendiamo il momento fatidico. La mia passione per il gancho è tanto quando ero bambino. È un po' come volentà di loro che sognavo condimentare il ganchatore. Ho avuto la fortuna che mi ha parecchato i genitori che mi hanno permesso. È un po' che ho avuto la fortuna di poter arrivare a casa. È un po' che mi ha fatto sentire come famiglia. E questi sono valori molto importanti che ci coordinassiamo. Finita la celebrazione, il capitano inizia a rilasciare autografi a selfie a raffica. Ma a causa della scarsa organizzazione che come al solito ben ci rappresenta, non riesco ad avvicinarlo. A questo punto il coordinatore decide che è arrivato il momento di andare a pranzo e lo porta via. Nonostante le intemperie e il morale basso, io e i miei amici non ci arrendiamo e lo seguiamo anche in hotel. Qui, finalmente, sembra essere arrivato il nostro turno. Voi non mi crederete, mi assento ancora i brividi. Quando penso che questa mano è stata appoggiata sulla spalla del capitano, mamma mia. Tutto questo perché? Perché il capitano è un esempio di virtù, un esempio di massima correttezza, una guida per i giovani. E poi parliamoci chiaro, rappresenta l'Inter. Il passato, il presente, ma perché no? Anche il futuro. Inutile dire che l'ingraziamento finale va proprio a lui, che con le sue molteplici prestazioni sul campo e con i valori umani espressi fuori dal campo, mi ha donato tanto, tanto, tanto. Quindi, grazie Pupi. Che bello! Muovendo a Zanetti, che mamma mia. Grande capitano. Ragazzi, forza Zanetti. A piedi! Zanetti! E poi io mi ammaggiata però, no? Poi io mi ammaggiata. Ti ammaggiata, dai. Se ancora non l'hai fatto, lascia un like alla mia pagina Facebook, iscriviti al canale YouTube e seguimi su Instagram.